musica ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, è spettacolo è spettacolo, è spettacolo non mi hanno neanche ammunito, mi hai già scappato allora, dici un po', ciao, come ti chiami? Andrea, di dove sei? Verona, come si chiama la squadra? Real Borgo Venezia, come è finito il campionato? eh, terzi dai terzi, bella di quante, ho detto brutte cose ma terzi è un buon risultato, su quante, non tra squadra spero eh, su 18 dai ancora è buono, potete vantarvi, c'è promozione, c'è qualcosa non lo so, è il playoff ma li abbiamo persi purtroppo però, però, ci siete andati è già tanta roba, perfetto, bene, fantastico hai l'amoroso? Sì come si chiama? Alessandro, ma non è qua sei innamorato? Sì perfetto, posizione preferita? missionario, classica va bene, dai, allora ci crediamo, ma non è vero allora, scordi a me, qua c'è il comment quiz se mi sai rispondere, io ti regalo un free link ok? Sei pronto? allora, aspetta che lì rendiamo partecipi gli amici avete venti secondi cosa vuol dire concubina? concubina è la la sorella della della moglie 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, no, è sbagliato amante, sposa o compagna comunque, TVB lo stesso vuoi salutare qualcuno? a tutti i tifosi almeno un grazie per il campionato no 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 no